e niente ragazzi sono rimasto da solo volevo fare delle sfide basta io non ti sopporto più ma stoppo il video ma va tutto bene? stoppa! stoppa? hai detto stoppa? si ragazzi ha detto lei stoppa io l'ho stoppato ok ragazzi la vedo pausa no no ragazzi provami prego c'è un po' di orecchio ah ma vabbè l'ha rotto l'orecchio come state? bellissima giornata oggi qui nella nostra casa ehi 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 non ho sentito casa di chi? ho detto nella nostra casa nella nostra? nella mia casa? non è vero siamo a casa nostra vero bro? ahia è vero bro ahia siamo a casa di mamma Giulia e figlia Chiara e figlio Diego questo è il nostro saluto bella bro non era così vabbè su per giù bella allora perché siamo a casa qua di mamma Giulia e figlia Chiara perché ragazzi oggi faremo un video molto divertente faremo delle sfide siamo qui a casa e oggi faremo aspetta papà senti dico io perché mi voglio fare il bagno in piscina a dopo ma a dopo ma il costume sotto allora oggi ragazzi faremo insieme a Diego e Chiara faremo delle sfide stavo parlando no dicevo che oggi oggi faremo delle sfide no niente ragazzi sono rimasto da solo e niente ragazzi sono rimasto da solo volevo fare delle sfide basta io non ti sopporto più ti imbuchi a casa mia non mi dici che stai arrivando e in più continui a parlare ragazzi pausa challenge ne vedremo delle belle Stefano rimane così mi diverte questa cosa mi diverte ciao adesso oggi è proprio fredda l'acqua si aia ma no dai Diego che è freddo ma è freddo perché sei sporco di cioccolata? eh non ne voglio eh va bene si ragazzi Stefano è ancora bloccato da circa un paio d'ore si si vabbè ste mi sento un po' cattiva facciamo così ti sblocco ma tu mi devi promettere che non mi bloccherai mai promesso promesso prosto sbloccami vabbè dai tre due uno Giulia due ore così vabbè voglio essere un po' clemente con te ok vai vai a bloccare quei tre che guarda un po' che cosa stanno facendo questa è una bella idea ora mi vendigo e stai attento anche a te Giulia e avevamo fatto un patto no è però si non mi ha aspettato comunque andiamo shh ti da seguire l'altra volta mi sono fatta le unghie però con sai come con i brinatini però oggi me li sono tolte perché erano un po' più scomole e ora me li sto facendo io non ho tipo così rosa finalmente è il mio momento questo è il mio momento della vendetta siete in pausa o sbaglio scusami sbaglio o mi hai detto qualcosa si si eh ho sentito vero ho sentito una parola che non mi convinceva o sbaglio si cos'è che ti si sta muovendo quindi a questo punto visto che siete in pausa potrei vendicarmi fare qualcosa a voi sbaglio è tipo quest'acqua molto fredda è la più vicina si no hai perso la sfida hai perso ste deve pagare pegno deve pagare pegno eh guarda aiuto ragazzi non vorrei essere al posto di ilary niente ragazzi comunque volevo solo dirti che chiara si è mossa quindi anche tu pagherai pegno e anche tu pagherai pegno ti dico mi duffo no non ci credo ragazzi beh direi che l'abbiamo combinata vero si abbastanza ma questo ragazzi è solo l'inizio no no questo ragazzi è solo l'inizio se volete continuare a vedere i video ovviamente iscrivetevi al canale per il continuo del video ma ma sei fatto? ila perché? perché mi hai sfinto? ma com'è l'acqua? è caldissima non mi sfingere beh ragazzi diciamo che questa giornata è iniziata abbastanza con il bot adesso ilary dato che l'acqua è molto fredda adesso ci andiamo a asciugare ok? ciao ila oh no allora aspettate un attimo perché vedo che c'è qualcuno che lì sta tossendo un attimino ste che hai fatto Giulia? ti senti bene? no un attimo ma stoppo il video ma va tutto bene? Giulia ma va tutto bene stoppa stoppa? hai detto stoppa? si ragazzi ha detto lei stoppa io l'ho stoppato beh io eh lo so non posso stoppare perché la batteria si è scaricata quindi lasciamo mamma Giulia un po' così e ragazzi tornerò un attimo dai ragazzi che si sta facendo il bagno stop stop dopo ti sblocco resisti 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 papà fa freddissimo fa freddo ragazzi oggi veramente come vedete guardate ragazzi è nuvolo sta quasi per l'uomo dai ragazzi dai copritele venite qua una due e ciao ti è rimasto qualcuno o sbaglio grazie papà dai dai amore che fa freddissimo oggi mamma mia è freddo non hai freddo tu? io sto tremando certo sta baucia salle non ci volevo bravo ma dici che continua secondo me per me no per quanto fa freddo lo sai che io e le altre mie amichette lo sapete che che veramente eravamo amiche del cuore e veramente tu non è ancora nata qualcuno forse aveva freddo che dici chiara non ti sento cosa sbloccami e io vedi cosa faccio purtroppo il telecomando ragazzi è scarico quindi se voi avevate freddo così vi imparate stai merendo c'ho freddo anche io anche io eh scusate ragazzi quindi avete perso no lasciami il telecomando questo è il mio scettolo lasciami il telecomando basta eh guarda che io vado a sbloccare mamma Giulia mamma Giulia ti sblocco grazie bisogna farlo uno scherzo a Stefano bisogna buttarlo in piscina ok si ragazzi pensavo di morire mi devo vendicare a sto giro gliene combinerò una di quelle belle allora ragazzi io sono arrabbiatissima con papà Stefano perché me ne ha combinata una bruttissima quindi se per voi va bene no cosa avete capito è tutto chiaro ok è un po' un casino è un casino sì quindi voi non dite nulla perché sì brava brava bravissima ok allora io lo vado a sbloccare e poi tu fai quello ok vado Giulia eh dimmi questo mio po' adesso lo sblocco io ah va bene allora io sto qua papà papà non funziona la doccia mi vuoi aiutare ti sblocco ma mi prometti che non mi metti più in pausa ok sto in pausa chiara mi avevo detto mi ero raccomandato di non farci carmi perché vabbè questa volta questa volta tu me la pagherai e adesso te che cosa vuoi tu adesso che cosa vuoi fare non ho capito guarda la doccia non funziona sì anche perché dobbiamo andare via perché no ragazzi adesso noi andiamo via lavo Ilari perché adesso gli faccio un bagnetto una doccetta veloce e vado via perché questa giornata ragazzi è già stata molto stressante per me no 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 adesso andiamo a vedere cosa andiamo a vedere perché non funziona questa doccia guarda guarda ilarie dobbiamo andare via quindi ci dobbiamo lavare veloci e mi raccomando no no ho paura perché io non mi posso bagnare te lo dico perché non ho nessun cambio guarda Ilari la vedo funziona c'è l'acqua Ilari la vedo ok ragazzi la vedo pausa no no ragazzi prima mi prego ho le scarpe il telefono il tasto stop 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 stai ci dobbiamo ma siete matti vi siete visti tutta quanta la scena chi la fa l'aspetti Giulia Giulia ti ho visto che mi stai spiando dietro Giulia 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 ti ha beccato Giulia ti ho visto questa volta se me la fai allora Giulia è scappata se vi ricordate bene all'inizio di questa giornata avevamo detto che bisognava fare delle sfide almeno una sfida la facciamo veramente e cioè consiste nel rimanere in piedi sopra il lettino nel mentre mi stanno frecicando perché chi di loro riesce a rimanere in piedi sopra il lettino e non cadere vincerà 100 euro che ne dite ragazzi chi vuole 100 euro io bene per vincere 100 euro bisogna rimanere in piedi sopra il lettino è molto facile rimanere sopra il lettino a meno che non c'è una difficoltà no non c'è una difficoltà la difficoltà è questa Hillary no no papà non c'è pausa pausa io vinco tanto sono l'unica che non sono scusa cosa hai detto niente la difficoltà sarà proprio questa resistere ad una pallonata addosso e la prima vediamo chi di voi resisterà alla mia pallonata e vincere 100 euro e forse sarà proprio Diego a cadere e Chiara dai ti do una mano dai allora Chiara ha troppo freddo quindi è eliminata dal gioco ciao Chiara è il turno di Hillary vediamo se Hillary resisterà alla pallonata ciao Hillary senti io mi dispiace ma io devo andare a prendere Giulia e poi sono fracico e me ne vado a casa aspetta no non ti aspetto non ti aspetto io me ne vado e ragazzi io mi so ve l'andate non li sopporto più allora ragazzi noi ci siamo cambiati io vado via finalmente te ne vai vado via perché non ce la faccio più no ma almeno tu te ne vai ok amore ci vediamo ciao ci vediamo alla prossima alla prossima ciao ciao la bambina la bambina la bambina pausa la bambina deve andare in bambina bene ragazzi io direi che è arrivato il momento di andarmene ma rischia la bambina pausa pausa e per me la bambina la bambina la puoi fare anche sotto oggi e quindi ragazzi ci vediamo domani con il prossimo video ciao ciao a tutti ciao ciao la bambina la bambina